Non ci è piaciuto perché alla ricerca dei pochi voti di Alfano ha sacrificato quella che è invece la nostra richiesta. Noi vogliamo più lavoro, vogliamo meno tasse per i lavoratori dipendenti, vogliamo degli investimenti veri. Questo è quello che è mancato ed è per questo motivo che non daremo la fiducia.